per cittadella new it di questa settimana alok e anitta con looking for love questo è il singolo buongiorno ben ritrovati siete su partecipiamo taranto cento per cento partecipiamo al microfono ci sono io anette in regia gisberto nicoletti e peppe candelli oggi è il 25 novembre e celebriamo la giornata mondiale contro la violenza sulle donne è una giornata particolare ricordiamo sempre che dobbiamo cercare di alzare le antenne di essere sempre presenti attenti anche a quelle persone che ci circondano e aiutare sempre chi è in difficoltà questa insomma di base la è la prima cosa da fare e poi a quelle donne che hanno la come dire la capacità di affidarsi a dei centri antiviolenza anche questo è importante 15 22 e il numero da chiamare in caso di difficoltà ma oltre a quello ci sono tantissimi centri all'interno del nostro territorio centri antiviolenza che sono pronti ad aiutarvi 24 ore su 24 e questo è importante da dire adesso partiamo con la grande musica di città della radio oggi ci saranno tanti ospiti tra pochissimo cominceremo già con il primo ospite in studio ma tante saranno le notizie e gli aspetti belli della nostra città di cui parleremo oggi intanto partiamo con la grande musica di cittadella la radio e adesso io accolgo il mio primo ospite in studio davide di giorgio buongiorno benvenuto ciao anette buongiorno a tutti grazie per l'accoglienza che con il maestro battiato eh beh sì un bel pezzo questo so che è tra i tuoi preferiti quindi siamo partiti bene soprattutto parte i monsters di taranto nel segno delle vampire quindi al via da oggi questo festival cinematografico e un appuntamento che ormai a cui siamo ormai abituati da anni un appuntamento culturale pugliese da quest'anno fantastic film festival sei giorni di proiezioni oltre 50 titoli insomma sta crescendo e cresce anche nel nome si si cambia nome cambia anche collocazione si espande abbiamo messo insieme un programma molto ambizioso quest'anno credo che sia la nostra edizione più corposa non solo per il volume dei titoli che è già citato ma anche per la loro varietà c'è davvero di tutto per tutti i pubblici bellissimo allora io vedo qui che c'è un libro da consultare per tutte e all'interno del quale ci sono anche indicate con delle bandierine quindi bandierina verde per quelli come me che hanno paura ma possono accedere bandierina gialla per chi vuole usare e poi la bandierina rossa per i puri e duri in realtà è una cosa che ci avevano chiesto gli altri anni la classica domanda ma questo film lo posso vedere è pure magari è troppo fa presenta delle scene troppo forte quindi abbiamo fatto questa segnaletica che è utile a orientare perché appunto il programma è vario intercetta vari tipi di pubblici e quindi può essere utile anche avere questa indicazione bene allora tornando sul nuovo nome quindi fantastic quindi vi siete allargati oltre all'horror che ricordiamo degli altri anni i monsters si sono allargati anche sul fantastico quindi sì in realtà noi essendo critici programmatori di ultradecennale esperienza che lavoriamo anche con grandi festival nazionali abbiamo una competenza a 360 gradi che abbiamo sempre messo al servizio di questo progetto fin dall'inizio chi è venuto al festival si è reso conto che non è il festival si propone il classico film horror per ragazzi con i salti sulla sedia ma c'è una ricerca culturale stilistica attraverso opere che vengono da tutti i continenti e quindi diciamo allargarci è sempre stato nel nel nostro dna non abbiamo mai concepito questo questo settore come una gabbia in cui chiuderci e quindi continuiamo ad allargarci anche allineandoci in questo modo anche ai grandi festival di settore internazionale perché un po tutti hanno questa dicitura dal brusselli international fantastic film festival alla semana del cinema fantastico di san sebastian lo stesso horror film festival che è il principale in italia il fantafestival per cui ci sentiamo ancora di più in famiglia assolutamente così l'edizione di quest'anno propone abbiamo detto 52 titoli da tutti i continenti e sarà nel segno delle vampire che fanno anche bella mostra di sé lo vediamo qui nella locandina si la grande fatta da alessio fortunato un grande disegnatore bonelli fra gli altri di dampier e le vampire diciamo sono delle figure che ci ispiravano da tempo volevamo dedicare un focus al vampirismo però attraverso appunto una prospettiva non convenzionale come appunto quella delle vampire che peraltro ci permette di fare un omaggio a uno degli autori a noi più cari che jean rollin autore francese di cui poco visto in italia anche se conosciuto di cui si vedranno quattro classici restaurati grazie alla collaborazione con powerhouse film che è un editore inglese che sta restaurando un po tutto il suo catalogo e sarà l'occasione per riscoprire questi classici che uniscono horror appunto ma hanno anche una dimensione onirica poetica lui era un autore influenzato dal surrealismo quindi diciamo c'è molta cultura all'interno dei suoi film anche se sempre sempre stato costretto dal mercato a un una collocazione di serie b ma per noi è un autore di serie a oltre al fatto che è un po una continuità rispetto al un percorso che stiamo facendo sul cinema fantastico francese qualche anno fa abbiamo fatto un omaggio alla rivista mi diminui fantastic che è una delle riviste fulcro del cinema francese attorno a cui lo stesso rollin gravitava quindi c'è continuità che bello poi c'è anche scoperta per chi non lo conosce avrà questa opportunità incredibile e poi cuore pulsante del festival e la storica sezione nuove tendenze dedicata al concorso internazionale per lungometraggi e cortometraggi sì abbiamo fatto un grande lavoro di scouting di ricerca appunto per non appiattirci sulle solite cinematografie si vedranno fin dal giappone dalla nigeria dal belgio davvero appunto come dicevamo tutti i continenti quasi tutti in prima nazionale quindi che non si sono visti neanche negli altri festival e quindi un'occasione da assolutamente da non mancare che bello che bello sono contenta e sono contenta di averte avuto mio ospite e qui davide parte oggi fino al 30 novembre i luoghi in cui si svolgerà il festival savoia cityplex per i primi tre giorni quindi da oggi fino a mercoledì e poi si passa a spazio porto una formula che stiamo usando da un po di anni e che funziona l'ingresso è gratuito per cui vi aspettiamo tutti benissimo quindi dal 25 al 30 novembre fantastic film festival grazie a davide di giorgia presto grazie grazie a tutti voi ben ritrovati siete su partecipiamo taranto cento per cento partecipiamo e adesso il piacere di accogliere in studio nuovo ospite gianni de vincentis buongiorno benvenuto buongiorno grazie a tutti grazie a voi allora gianni de vincentis presidente WWF taranto ci sono tante attività che il WWF taranto fa e mette in atto ce ne vuoi parlare intanto di quali sono sono tantissime per cui magari le principali ecco infatti sì diciamo principalmente le nostre attività sono sono concentrate in questo in questo periodo sul mar piccolo perché è assolutamente una una caratteristica peculiare della città di taranto e quindi va assolutamente preservata conservata e sfruttata secondo noi ai fini ambientali oltre che commerciali quindi l'ambiente di cultura va benissimo però siccome uno scrigno di biodiversità pazzesco e c'è tanta gente che viene tanti tanti turisti che vengono proprio qui ad osservare questa queste meraviglie quindi dobbiamo assolutamente incentivare e promuovere questa 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 nostra in questa parte di circo di circo mar piccolo in questa zona del nostro territorio in questo momento cosa c'è beh sulla circo mar piccolo va beh c'è il punto nevralgico e la palù della vela l'oasi orientata regionale adesso tutta la circo mar piccolo non solo la circo mar piccolo tutto il mar piccolo è diventato parco regionale quindi è assolutamente una 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 risorsa per taranto dal punto di vista ambientale e dal punto di vista turistico secondo noi poi ovviamente le nostre attività sono tantissime durante l'estate abbiamo fatto una grandissima un grandissimo lavoro sulla conservazione della tartaruga caretta caretta abbiamo gestito tanti nidi e il fatto che ci siano questi cambiamenti climatici portano queste tartarughe a diciamo spostarsi più al nord quindi dalle coste della grecia della turchia e invece preferiscono venire a nidificare sulle nostre coste la cosa è bellissima certo ecco qui stiamo vedendo delle delle immagini di una schiusa che abbiamo avuto quest'estate e questa è una una cosa particolare perché è una schiusa esplosiva nel senso che le tartarughe ne sono circa un centinaio mamma mia si accumulano sotto la sabbia ed escono tutte assieme ed è una ed è una meraviglia e quindi noi abbiamo gestito circa 20 nidi solo quest'estate circa 20 nidi quindi con un grande dispendio di forze assolutamente di energie e quindi ecco perché abbiamo ritenuto doveroso aprire una sede in città e quindi abbiamo aperto proprio da qualche giorno infatti oggi raccontiamo anche questo della nuova sede finalmente città ed in via in via berardi 18 quindi praticamente in prossimità di di piazza maria immacolata e questo ci sarà ci servirà insomma ad avvicinare la gente al volontariato al volontariato ambientale al volontariato fattivo insomma assolutamente io voglio fare una domanda gianni quando abbiamo parlato adesso delle delle tartarughe caretta caretta quando sono in quella fase prima di uscire insomma da sotto la sabbia prima di di emanciparsi ecco ci sono voi fate delle recinzioni perché ecco lo spieghiamo a cosa servono quelle recinzioni e perché non devono essere oltrepassate allora è molto importante questo ti ringrazio di questa domanda così possiamo dare delle informazioni più più precise più dettagliate la nostra attività inizia ancora da prima noi facciamo durante il mese di maggio giugno un'attività di monitoraggio sulle spiagge per identificare i nidi quando li identifichiamo noi ovviamente di di recintiamo e li lasciamo lì perché noi ci occupiamo di conservazione della specie quindi non facciamo un'attività impattante dobbiamo lasciar fare alla natura quindi è importante non invadere questi recinti che sono piccolissimi e tolgono poco spazio alla gente poi negli ultimi 15 giorni invece facciamo un'attività di controllo monitoraggio h24 quindi su quei nidi c'è sempre una coppia di volontari del wf fino alla schiusa e poi ovviamente gestiamo la schiusa e facciamo in modo che le tartarughine arrivino in mare insomma sane e salve anche perché poi la percentuale di sopravvivenza è veramente bassa quindi dobbiamo cercare di farne andare in acqua quanto più possibile assolutamente questa è una cosa importante io mi auguro che insieme alla nuova sede insieme a una continua informazione possa il wf taranto coordinato da te ma anche insomma grazie all'opera di tutti quanti volontari che fanno parte wf taranto possa avere sempre più come dire risalto nel senso anche culturale delle attività che svolgete quindi che tutti quanti noi in città e altrove in provincia ovunque riusciamo a capire tanto gli sforzi incredibili che voi fate come wf per appunto mantenere lo stato attuale delle cose e poi sempre per salvaguardare appunto la natura questa è una cosa importante ti ringrazio per essere stato mio ospite già grazie a voi grazie ai telespettatori bene grazie noi ci rivediamo tra pochissimo diamo linea alla regia a tra poco restate con noi amici ben ritrovati siete su partecipiamo taranto 100% partecipiamo su 96.5 fm canale 98 in streaming sui siti studio 100.it radio cittadella.it oggi 25 novembre la giornata mondiale contro la violenza sulle donne a martina franca è stata inaugurata una panchina rossa rivestita da una coperta all'uncinetto realizzata dalle volontarie del cav vediamo il servizio di luciana convertini un'iniziativa dal forte impatto simbolico che ha anticipato di due giorni la giornata mondiale contro la violenza sulle donne a parlarcene il presidente del cav di martina franca gianni genco l'idea è veramente viene da fasano e l'ha accolta maria fumarola che una responsabile del gruppo delle creative del cav e questo simbolo questo lavoro che loro hanno fatto per giorni realizzando delle piastrelle di all'uncinetto una per una poi le hanno messe insieme e diciamo che diciamo che poggeranno su questa panchina e sta a simboleggiare il colore rosso del sangue che non vogliamo più vedere versato dalle donne la coperta è frutto del lavoro di un gruppo di donne coordinate da maria fumarola che ci racconta il valore di questo progetto abbiamo aderito all'evento che avevano creato questo gruppo di fasano e l'associazione aps andrattina che al più o meno le nostre stesse finalità diciamo e in occasione della giornata punto mondiale contro la violenza sulle donne abbiamo realizzato questa coperta come simbolo contro la violenza sulle donne per tutte quelle donne vittime di violenza la cerimonia è stata accompagnata da letture di poesie e riflessioni sul tema della violenza di genere con la partecipazione del centro antiviolenza di martina franca la coordinatrice paola cellammare sottolinea l'importanza della prevenzione e della sensibilizzazione si parla di eliminazione proprio perché ci deve essere un'azione proattiva di tutti gli attori e di tutte di tutte noi impegnate appunto a contrastare questo fenomeno che ancora è sistemico e non va affrontato solo quando c'è una situazione d'emergenza. Ebbene questo è il servizio di Luciana Convertini vi ricordo che tra pochissimo avremo ospite telefonica in collegamento telefonico la dottoressa Manuela Carone con cui continueremo a parlare di questa giornata continueremo a parlare della tutela delle donne e adesso diamo linea allo grazie alla musica un altro brano e poi ci rivediamo tra poco ben ritrovati siete su partecipiamo Taranto 100% partecipiamo al microfono ci sono io Annette ospiti in studio Luca Pellicore De Leonora Belvedere benvenuti grazie grazie benissimo oggi parliamo di Enjoy Your Dive di tutte le attività che fa Enjoy Your Dive in particolar modo per rispetto lo sappiamo Luca tu fai tante attività da tanti anni ormai lo raccontiamo in radio adesso anche in tv qui studio 100 tante attività che riguardano anche diverse disabilità è così? Sì sì lavoriamo già da 5-6 anni in quest'ambito con l'obiettivo di fare inclusione inclusione sportiva inclusione per attraverso lo sport è importantissimo importantissimo Leonora per te fare sport cosa vuol dire? è per me che ci sia questa possibilità appunto di immergersi in acqua dove il movimento diventa libertà è importantissimo è vero è una sensazione a parte tenersi comunque in forma no? perché suppongo che bisogna tenersi in forma in condizioni anche di difficoltà assolutamente ed è il modo migliore in acqua fa bene anche alla mente tra l'altro bellissimo immagino è meglio poi insomma noi abbiamo qua Luca che la mente la cura anche con la sua simpatia con la sua empatia è vero con tante attività io lo seguo noi lo seguiamo ovviamente lo seguiamo sempre le sue attività che sono molteplici e la particolarità una delle peculiarità di Luca è il sorriso il buon umore proprio l'empatia questa cosa che trasmette trasmette e arriva è arriva Luca quante attività e soprattutto io ho visto anche delle ultime e delle recenti attività in una piscina che è la più profonda d'Europa mi sbaglio? Sì siamo tornati ieri sera abbiamo fatto vivere l'esperienza della Y40 Deep Joy che si trova a Padova praticamente a uno dei nostri ragazzi Mirko non ci era mai stato in acqua termale peraltro quindi acqua calda una situazione ideale diciamo perché si immerge abbiamo insomma volevamo far provare questa questa nuova esperienza è andata benissimo siamo tornati ieri sera è stata veramente una bella esperienza ci siamo divertite perché poi si facciamo inclusione non lo facciamo anche divertendoci insomma assolutamente beh questa è la parola chiave dire che il divertimento diciamo che nella quotidianità Eleonora tu ci puoi confermare quante difficoltà incontri no? ogni giorno per ogni cosa però non ci si arrende anche perché ecco perché trasmette perché fa venire ancora voglia e invogliando alla non cioè che non ci sia differenza e tutti possiamo fare quasi tutto questo è l'inclusione questo vuol dire inclusione tra le altre cose Eleonora io ti chiedo ci è voluta una spinta maggiore per iniziare questo tipo di attività cioè è molto più semplice dire magari no ma non ho voglia mi lascio andare invece dipende molto dal carattere però e dalla voglia appunto che uno ha però ripeto per quanto mi riguarda per come sono io mi nomini l'acqua e mi nomini la vita che bello sei inarrestabile sì 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 paradossalmente non mi fermo mai assolutamente no ma questo è lo spirito peraltro no Luca noi lo diciamo sempre con Enjoy Your Dive vi abbiamo visto anche sulle reti nazionali quando siete stati no intervistati per tutte le attività che voi svolgete quel valore aggiunto dell'inclusione no? è qualcosa che tu insieme a tutti quanti i ragazzi che lavorano con Enjoy Your Dive vi portate dentro perché è una diciamo è una funzione principale della vostra attività sì è una cosa che dico sempre ripeto sempre se non la fai con passione se non ce l'hai dentro non puoi essere anche professionalmente tecnicamente perfetto ma non c'è quell'empatia non c'è quella quella cosa che è come diceva Leonora ti prende poi alla fine noi diamo semplicemente una spinta perché poi il merito di quello che fanno è realmente tutto loro mi definisco un motivatore ecco diciamo assolutamente ma lo sei perché io vedo ragazzi che ti seguono quindi e poi li porti ovunque cioè Luca tu per te non esistono le barriere questa è una cosa bella la dimostrazione è proprio dimostrare proprio che noi battiamo proprio per il cambio di cultura insomma perché molti credono che magari certi ragazzi non possono fare determinate cose e noi mi piace dimostrare il contrario anzi poi la sfida più difficile più mi più mi applico quindi meglio così più difficile come si dice quando il gioco diventa duro i duri cominciano a giocare e presso il mediterraneo village la piscina è possibile seguire corsi così si stiamo partecipando in realtà a un progetto best community the best practice si chiama e con la cooperativa con i bambini con la cooperativa logos che è la capofila è un progetto che andrà avanti per tre anni si ci sono corsi di acquaticità e laddove è possibile anche di snorkeling per bambini bellissimo diciamo per normodotati piuttosto che persone con bambini con disabilità piuttosto che disagiati sociali questo è un gran bel progetto è un bel progetto un progetto grosso siamo stati inclusi il lavoro alla fine insomma ha premiato la costanza e la perseveranza ci ha premiato e quindi siamo puri contenti insomma perché il venerdì l'appuntamento sempre un paio d'ore la piscina mediterraneo village quindi tra le varie tante altre cose esatto tra le tante cose io vi ringrazio per essere stati i miei ospiti grazie a Luca Pellicoro grazie a Eleonora Belvedere in bocca al lupo per tutto per tutta l'attività teneteci aggiornati va bene? così noi continuiamo a raccontare grazie ancora e a presto grazie a voi grazie bene amici adesso è arrivato il momento di dare spazio alla regia noi ci rivediamo tra poco adesso continuiamo a parlare delle cose del nostro territorio e ovviamente parliamo del Don Milani Pertini Grottagli che ha triunfato il concorso della Guardia di Finanza un video racconto contro l'illegalità e l'Istituto Don Milani Pertini Grottagli ha fatto la storia giudicandosi il primo posto al prestigioso concorso regionale Terra, Mare, Aria, Protetti e Sicuri promosso dalla Guardia di Finanza della Puglia in occasione del suo 250esimo anniversario della sua fondazione in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale per la Puglia la cerimonia di premiazione si è tenuta presso l'auditorium della legione allievi di Guardia di Finanza di Bari Palesi ha visto l'Istituto distinguersi grazie al progetto un set a scuola studenti Guardia di Finanza contro l'illegalità un video racconto che ha profondamente sballordito la giuria svelando i meccanismi oscuri delle corse clandestine di cavalli e i legami con attività criminali più ampie attraverso un linguaggio coinvolgente e una ricerca approfondita gli studenti hanno realizzato un prodotto di grande impatto capace di sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema delicato la collaborazione con la Guardia di Finanza è stata fondamentale per garantire l'autenticità e la professionalità del progetto questo premio ha dichiarato il dirigente scolastico la professoressa Giussi di Troia è un riconoscimento al nostro impegno e alla nostra passione il nostro obiettivo era quello di creare un prodotto che potesse lasciare un segno stimolando una riflessione sulla legalità tema sempre più attuale importante sempre e auspicabile la collaborazione delle istituzioni delle forze dell'ordine in particolare con la scuola per affrontare tematiche come questa mi piace puntualizzare che il successo ottenuto è il frutto di un lavoro di squadra che ha coinvolto studenti, docenti, personale scolastico e genitori dimostrazione questa che la nostra è una comunità scolastica sana e pronta alle sfide oltre a tutto questo la Guardia di Finanza ha espresso grande apprezzamento per l'iniziativa sottolineando come il video sia riuscito a mostrare il loro impegno e lavoro quotidiano a difesa della collettività e questo è un grande traguardo per questa scuola assolutamente incredibile perché come ricordiamo quando parliamo di legalità quando parliamo di giovani sentiamo sempre insomma tutte queste difficoltà che si hanno nella nostra quotidianità e quanto sia l'onore delle cronache e tutto ciò che i ragazzi possono fare rispetto a delle attività che non sono proprio insomma diciamo così non appropriata invece quando parliamo di giovani che ottengono dei riconoscimenti, dei premi rispetto alla cultura della legalità ovviamente noi non possiamo che essere felici soprattutto giovani che vivono nel nostro territorio e adesso noi continuiamo con la musica ci rivediamo tra poco e adesso linea alla regia ben ritrovati siete su partecipiamo a Taranto 100% partecipiamo oggi come ogni anno dal 1999 si celebra la giornata per l'eliminazione della violenza contro le donne l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come data per la ricorrenza e ha invitato governi e organizzazioni internazionali a organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della non violenza e del rispetto delle donne la data della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne segna anche l'inizio dei 16 giorni di attivismo sulla violenza di genere che precedono la giornata mondiale dei diritti umani il 10 dicembre di ogni anno per sottolineare che la negazione della violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani e anche noi vogliamo dare il nostro contributo di sensibilizzazione e per questo accogliamo al telefono la nostra esperta la dottoressa Manuela Carone psicologa clinica buongiorno dottoressa bentrovata buongiorno bentrovati a voi buona giornata a tutti bene allora come riconoscere un amore tossico? dunque caranette non sempre è facile spesso queste relazioni iniziano con comportamenti che non si riesce ad identificare immediatamente come disfunzionali me ne viene uno in mente il landbombing che letteralmente è un bombardamento d'amore è una tecnica di manipolazione affettiva ed emotiva nella quale la donna viene inondata di affetto di lodi, di regali, di attenzioni e inizialmente può sembrare romantico e stravolgente ma in realtà è una modalità di controllo camuffata per rendere la donna che lo subisce vulnerabile e dipendente a volte la donna che resta imbrigliata in queste dinamiche ha difficoltà a uscirne a causa dei sentimenti di colpa e di confusione che prova spesso poi dopo il landbombing subentra il controllo ad esempio degli spostamenti e la pretesa di una risposta immediata a chiamate o messaggi di internet il controllo di social network, delle chiamate, anche dell'email proprio per monitorare le interazioni sociali poi c'è la tendenza a impartire ordini e lezioni su ciò che è giusto fare per esempio nel vestire, scegliendo gli abiti di indossare quando si esce i partner tossici poi diventano imprevedibili nel comportamento quindi a esplosioni di rabbia si alternano momenti di grande affettività e gentilezza che lasciano confusa e disorientata la donna chi dire più? Sono patologicamente gelosi hanno la tendenza a esercitare il dominio e il possesso nei confronti della donna e ad attribuire a lei però la causa della propria rabbia e del proprio comportamento negano l'abuso agito quindi ogni volta che la donna nella relazione prova a lamentarsi del trattamento subito riceve invece negazioni accuse di aver reagito in modo eccessivo di prendere tutto troppo sul serio, di non avere senso dell'umorismo perché il fine ultimo del partner tossico è l'isolamento della vittima attraverso un discredito di tutte le persone vicine quindi familiari, amici, discreditandole o mettendogli addirittura contro si tratta di veri e propri abusi psicologici che ahimè sono più subdoli e meno immediati da riconoscere della violenza fisica ma che fanno ugualmente male umiliando e minando l'autostima e l'identità, l'integrità psichica della donna che li subisce certo, assolutamente, è una cosa molto complicata però cosa possiamo dire in ultimo alle donne che non riescono a chiedere aiuto? hai detto una cosa molto giusta, molto vera purtroppo è così spesso non si riesce a chiedere aiuto soprattutto per la vergogna di essere state cieche di sentirsi dire perché non te ne sia andata prima a queste donne sento di dire non pensare di poter cambiare un uomo possessivo che ti umilia, che ti svaluta che ti impedisce di coltivare i tuoi interessi o di frequentare i tuoi affetti che ti controlla anche economicamente perché non sa di essere nel torto non giustificarlo e non rivederlo perché non debba essere tu un'altra Giulia Cecchettin io mi voglio rifare all'omicidio di Giulia Cecchettin avvenuto poco più di un anno fa che ha contribuito a sensibilizzare tantissimo l'opinione pubblica e sono nate in seguito tantissime associazioni ne voglio segnalare una nata nel nostro territorio proprio nella cittadina di Palagiano che si chiama Come un Bucaneve per dare proprio l'idea di sbocciare in mezzo al gelo dell'indifferenza e che mi ha colpito perché è un'associazione di donne per le donne è nata dall'idea di Caterina Nicolini e Ludovica Allatorrata che non sono professioniste del settore dei servizi sociali e questa è la cosa che è interessante ma sono mamme, sono impiegate, sono insegnanti sono ingegnere come Viviana Mappa che è un'altra coautrice e che ogni anno il primo dicembre e dicembre organizzano un corteo rumoroso quindi fanno rumore per tutte le donne vittime di violenza si terrà anche quest'anno a Palagiano dalle 17.30 e dico che chi si riconosce come donna vittima di abusi può e deve ricorrere a questi semplici ma preziosissimi strumenti che sono proprio le associazioni locali quindi stanno nascendo tante forme di aiuto non sentite di sole Certo, assolutamente grazie io la ringrazio dottoressa per essere stata mia ospite per aver parlato ancora dell'aiuto possibile intanto del riconoscimento dell'amore tossico e dell'aiuto che possono richiedere le donne quindi rivolgerci alle associazioni del territorio il 1522 che è il numero per tutte grazie alla dottoressa Manuela Carone psicologa clinica presto dottoressa buona giornata, buon lavoro a presto, buona giornata grazie bene allora amici adesso diamo spazio alla regia ci rivediamo tra poco ben ritrovati siete su partecipiamo Taranto 100% partecipiamo e con l'accensione delle luminarie parte ufficialmente il Natale di Taranto insomma al via il Natale più lungo d'Europa con le luci che adoperanno il borgo la ruota panoramica insomma giostra vintage la pista di ghiaccio e ovviamente con la banda per le tradizionali pastorali e adesso sentiamo cosa dice cosa ha detto appunto alle nostre telecamere il vice sindaco Gianni Azzaro abbiamo voluto anche quest'anno regalare un momento, una magia ai nostri tarantini non solo qui nel borgo ma anche negli altri vie della nostra città nelle vie commerciali ma nelle vie periferiche anche diciamo coinvolgendo le nostre chiese annunciamo anche la presenza finalmente anche di un villaggio di Natale che sarà realizzato nei BAC nel nostro parco della Musica con inaugurazione per l'8 dicembre è un momento anche che sarà invece dedicato esclusivamente anche ai bambini con attrazioni nel nostro parco nella nostra piazza Garibaldi le iniziative non finiscono qui ci saranno ulteriori eventi itineranti nelle vie commerciali toccando via Liguria invece sarebbe Battisti Corso Vittorio Emanuele ma andando anche nei periferie Polo Sesto e Tamburi quindi tutta la città sarà coinvolta da questa magia del Natale che a noi piace tantissimo insomma vivere abbiamo già visto sui social le prime immagini dei bambini ma anche degli adulti che vivono questa magia abbiamo visto un centro un po' più affollato rispetto alle altre sere speriamo ci auguriamo che sia man mano crescente questa condizione perché siamo tutti felici ovviamente di vivere la magia del Natale e di vedere tutti quanti gli eventi che si svolgeranno da qui fino al prossimo anno e adesso continuiamo con la musica ci rivediamo tra poco ed eccoci arrivati al termine della nostra puntata insieme ringrazio Gisberto Nicoletti e Pepe Candelli e la regia e la parte tecnica ringrazio voi per averci seguito un saluto a tutti quanti da netto ci rivediamo domani alle 10 precisi e puntuali su Partecipiamo Taranto 100% partecipiamo buona giornata a tutti buon proseguimento grazie arrivederci ciao ciao ciao